Una zona estesa di gela completamente al buio. Sconosciuti hanno trafugato una quantità ingente di cavi di rame, creando disagi notevoli a chi in quella zona ci vive e ci opera. Sono senza corrente elettrica. Teatro dell'ennesimo episodio delinquenziale e l'aria che sorge sulla statale per Catania, a ridosso del Castelluccio. I titolari di una stazione di servizio non sanno più a chi rivolgersi. Sono fermi, senza lavoro. Lei ne ha detto che ha bisogno un po' di tempo, perché il furto è stato grosso. Sono stati forse 10 km di cavi di rame che sono stati rubati. Ci hanno detto che ci vuole un po' di tempo. Del resto anche i leni, che prima si attivava subito, perché intanto è un servizio pubblico ed è l'unico, si può dire, impianto della zona che rifornisce i clienti di GPL, di Gela, di Niscemi, di Butera, perché non ci sono altri impianti nella zona. Però anche i leni non ha più l'interesse di una volta, perché non vuole più noleggiare un gruppo elettrogeno. Le spese, dice, sono pesanti pure per loro. Lo Stato non interviene. Abbiamo fatto le denunzie ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza, che sono molto attivi nel fare il loro lavoro, però in questo caso i tempi sono lunghissimi. Nella stazione di servizio, rimasta senza corrente elettrica, ci lavora anche un ragazzo. Lo stipendio era l'unico sostentamento per la famiglia. Adesso non c'è più neanche quello. Il rifornimento è chiuso e non ha alcun introito. Come porti avanti la famiglia? A soffrire. Qualche aiuto, ferie, malattie. Una situazione molto critica. Abbastanza.